Eccoci ancora con due calciatori del Potenza, tu sei? Caruso Carmin. Com'è? Caruso Carmin. Caruso, dove hai giocato? Caruso l'anno scorso? A Battipaglia. A Battipaglia, bella roba. Allora, stavate vincendo il campionato, avete perso? Eh, eh, scusami, eh, ti ricordi? Sì. A causa del Presidente, devo dire la verità, non è colpa vostra, ne di la calma. No, come? Assolutamente, lo di chi? Lo di chi? Sei un giornalista, mi chiedo, posso dire. E questo ormai tutti quanti lo conoscete, a Napoli è molto noto, perché è biondo, essendo biondo tutti quanti lo riconoscono. E parlo di Acampora. Allora, ciao Acampora. Senti, ho visto, per quel che sei stato in campo, prima che poi sei stato infortunato, ma leggero mi sembra, no? Sì, sì, cosa da niente. Cosa da niente, per precauzione, subito ti ha cambiato. Ma io ho rischiato. Certo, anche perché guarda caso giocavi contro quella squadra. che ti punì a Natale. È una cosa di scaramanzia. Certo, perfetto, benissimo. Senti, Gennaro, comunque ti ho visto veramente bene, devo dirti la verità, insomma, mi sei piaciuto. Un po' meglio, stiamo trasformando il lavoro del ritiro, abbiamo caricato molto, però oggi stiamo un po' meglio. Adesso piano piano ci mettiamo bene. Vabbè, ho visto anche, praticamente, alcuni passaggi veramente deliziosi al centro campo, eh. Sì, sì, ma stiamo iniziando a carburare, ci vuole tempo, però. Sì, insomma, la squadra sta ancora dietro, sei d'accordo con me? Perfettamente. Siete proprio indietro, indietro proprio? No, indietro, indietro no. Comunque abbiamo lavorato, quindi magari fisicamente stiamo... Allora, ti posso dire, io siete i mezzi imballati. Vabbè, in questo periodo è normale, è un guaio, è un guaio se fosse più avanti. È chiaro, però mi hanno detto che per il lavoro che state facendo, poi dopo invece... Si corre. Si corre, dopo si corre, perché l'unica arma che avete è correre. No, non è l'unica arma, è un'arma che abbiamo. È un'arma. Senti, qual è la squadra che più temi in questo girone? No, vabbè, innanzitutto non c'è una squadra in particolare, ci sono squadre plasonate nel girone, ma questa potenza non è da meno delle altre, senza alcun... Mi fa piacere che tutti quanti siete convinti, è come anche tu la Camera. Siamo convinti di fare un buon campionato. Senti un'altra cosa che ti volevo dire. Tu l'anno scorso eri attore di Greco, giusto con la Turris? Sì. Adesso è diventata Iria quella Turris, adesso c'è un'altra Turris e praticamente non è capitata nel vostro girone. No, ma è così, mi sarebbe rispiaciuto giocare contro il presidente. A Gaglioni, insieme a Gaglioni. Sì, è liquidato. Ehi, però ci hai fatto il corno, sei venuto qua a potenza. Vabbè, il calcio è successo. Ho capito. Va bene, ti saluterò sia a Gaglioni che a liquidato, va bene? Bene, va bene. Ti trovi bene con la cava? Sì, sì, è un allenatore che chiede molto, però ci troviamo bene. Lo so, vi ho sentito come sei andato incazzato. Va bene ragazzi, vi ringrazio. In bocca al lupo, in bocca al lupo, in bocca al lupo.